non è da me Issa scrivo il numero numero in il mio mano mi chiede a New York e come in questo aiolo? ma c'è un pizzo la città il città il caffetto la città io adesso nonake vai! vai Italia! no, no, e poi sa c'è un po' luttio aii! ora è te E questo non è l'aiolo? Ah, è l'aiolo.